Il Presidente Salvini con questa sua venuta a Catania è stato sensibile come sempre, gli abbiamo rappresentato i problemi del nodo Catania nella speranza che si possano trovare le risorse per il finanziamento, ma è andato anche oltre chiedendo di verificare tutta una serie di questioni e di criticità che affliggono la nostra comunità, glielo esposse e si è mostrato estremamente sensibile nel cercare di individuare insieme le soluzioni.